Scusi, ma adesso noi quando è che andiamo a Venezia? Due ore di ritardo del treno? Il primo treno sarebbe altre? 12.40, ma è una regionale che ci mette due ore e otto minuti? Due ore e otto minuti? Tutte le fermate? Tutte le fermate farà. Immediatamente, in biglietteria. Adesso sta arrivando il coordinatore della biglietteria e si incarica a lui e adesso si prende più macchina. Ma ci riesce ad essere per l'una a Venezia? No, mai non ce l'ho più. E io se l'uno è in tribunale, sì. O più di così non so che cosa fare. Ah, potrebbe essere. Eh, questo qua dov'è che arriva? La biglietteria è in una prossima settimana. Ah, forse è lei? Se magari adesso la prenderemo in presa rossa. Basta. Qua, qua. Guarda, io faccio il metro degli legati, c'è il 45. Abbiamo fatto un viaggio, i signori hanno fatto un viaggio bello. Allora, oggi si intervallano in un portale. E i signori chiedono se si può, no, se possono, un giusto meno e una macchina. Ma c'è un diritto con un diritto. Se mi fa parlare? Allora, vanno bene. Allora, loro hanno un biglietto regionale. Chiedono se possono prendere la freccia di luna, risparmiare un po' di tempo col biglietto regionale. Venezia, Venezia. Santa Lucina, in qualche storia. Santa Lucina. Tre? Santa Lucina. Cinque persone. Ma per l'una o se c'è la Valencia? No. No. No, 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 ce l'ho uno. C'è la lina che è arrivata in Paglia. Eh, veramente. Perché io avrei chiamato il capotreno, ma non è associato un'ora e mezza. Poi fare questa cortesia. Guarda, hanno fatto un viaggio. No, no, guarda, anche noi abbiamo avuto la mattina la faccia molto movimentata, quindi immagino che anche si tende in questa ponte. Guarda, guarda, guarda che una cosa del genere non l'avevo mai vista. Noi pensavamo che saremmo un guardia. Dove possono aspettare una risposta? Io posso andare? Se, per l'una e mezza non ci vedi? No, no. Prima delle due dieci non era. Prima delle due dieci non ci vedi.